però non ci giochi, ci giochi che giochi hai provato, quale giochi hai provato a fare perché ora deve fare qualche animazione deve fare qualche cosa, che deve fare qualche animazione adesso si che deve fare spie sotto copertura con chi è? con chi potrebbe essere questo schifo non devi tenere così così, guarda guarda, guarda guarda, dove sta? guarda guarda, guarda, guarda guarda, così, vedi? ok 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 quando la banda passò Sì. 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 Sì, non è che tu sia così, fatto meglio.